La cabina è, se ci pensate bene, soprattutto voi che lavorate nell'industria dell'autotrasporto, è di fatto una seconda casa per migliaia di camionisti che ogni giorno ripercorrono le strade d'Italia e d'Europa per rifornire i nostri supermercati, i nostri ospedali, le nostre mense, i ristoranti, eccetera. Provate per un istante a immaginarvi cosa sarebbe la nostra società, la vita di oggi, senza il lavoro svolto da queste migliaia di persone che appunto passano la buona parte della loro vita in una cabina, in un camion. Ma in cabina non è solo di fatto quell'entità fisica posta sopra le ruote di una motrice, ma di fatto anche un libro, che è questo libro di Fabrizio Spiras. Se qualcuno di voi ancora non conoscesse Fabrizio, ecco sappiate che Fabrizio è uno scrittore, perché appunto questo è il suo terzo libro, ma è uno scrittore particolare perché di fatto la sua vera professione è il camionista e nei ritagli di tempo tra una pausa e l'altra, magari in sosta a qualche area di servizio, in qualche piazzale di parcheggio, situazioni che tanti di voi conoscono bene, trova il tempo, lo spazio e anche il piacere credo di fermare su un pezzo di carta alcuni dei suoi pensieri. Oggi in particolar modo ho l'onore e il piacere di averlo portato virtualmente qui da noi in Timocom, che l'anno scorso abbiamo voluto sostenere la pubblicazione del suo terzo volume appunto in cabina e cercheremo di fare con lui una videotelefonata, una piccola videointervista via telefono. Io nel frattempo inizio a comporre il numero e vedere se riesce a risponderci, speriamo di trovarlo in un attimo buono. Vediamo. Eccolo. Fabrizio, ci sei? Eccoti qua. Finalmente riusciamo a vederci seppur a distanza. Come stai? Tutto bene? Dove ti trovi oggi? Ciao Tommaso, un gran saluto a tutti quanti e quelli che seguiranno questa intervista. Io oggi ho iniziato una bella settimana che mi porterà in giro fino in Olanda e fino a Berlino. Sta andando tutto bene, l'inizio è positivo, perciò è un buon segno. Allora Fabrizio, camionista e scrittore sono due realtà di fatto lontane anni luce l'una dall'altra, a pensarci bene, in realtà per te non è così. Dici, quanto ha bisogno il Fabrizio camionista del Fabrizio scrittore e forse viceversa? Indubbiamente il Fabrizio scrittore è in debito rispetto al Fabrizio camionista, perché sì, è vero che scrivo anche altre cose, non solo di camion, però il lavoro mi ha portato a trovare una strada ben precisa per quanto riguarda la mia passione per la scrittura. Inoltre non sono una persona di grande fantasia che è capace di inventarsi chissà quali cose, quali racconti, mi piace comunque descrivere la vita che faccio in prima persona sulle 12 ruote o anche quello che capto, osservo in giro attraverso gli altri, attraverso tutti i posti che vedo, che ho passato, che ho frequentato e che frequento. Sicuramente perciò questo ha dato un grosso input alla passione della scrittura. Grazie.